Da Radio Roma, la radio dei VIP, incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo in un programma esclusivo di Antonello De Pierro con la regia di Sandro Alessi. Amici e ascoltatori, buon pomeriggio, bentrovati sui 103.9 di Radio Roma in questo sabato 9 giugno 2007. Un'altra puntata è la radio dei VIP che vi viene in compagnia da quasi dieci anni. Un saluto naturalmente a tutti voi, grazie per essere l'ascolto perché senza di voi non avremo motivo di essere qui. Come dico ogni volta, abbiamo appena iniziato, è arrivato tipo porta a porta, proprio come fa per uno Vespa, è arrivato però senza suonare, è arrivato un'altra ospite. Comunque ancora non ho presentato gli ospiti, non c'è problema, adesso li presento. Innanzitutto un saluto in cabina di regia Giuseppe Savo e Matteo Di Rocco che sono la colonna portante della nostra trasmissione, proprio la parte che non si vede però che si sente proprio materialmente perché altrimenti il nostro traino, il nostro traino tecnico. Naturalmente un saluto al nostro editore, il dottor Alessandro Monatesta, che ormai da dieci anni del prossimo anno festeggiamo dieci anni con Radio dei VIP, perciò faremo sicuramente una grandissima festa, ci stiamo già lavorando. Comunque oggi 9 giugno, una giornata molto particolare per Roma, ci sono due manifestazioni, c'è la visita di un capo di Stato, molto molto... è stato atteso tra l'altro. Io onestamente sono rimasto un po' sconvolto da alcune situazioni che ho visto oggi nello scorrere delle immagini televisive. Parliamo appunto di Bush, George Bush che è stato ospite a Roma dei vari organi istituzionali, ma soprattutto è andato, si è ricato anche in Vaticano dal Papa. Onestamente non ho, io almeno questa è una scelta personale, una opinione personale, vedere Bush che ha provocato tutte quelle vittime, tra l'altro senza calcolare che dietro ogni morto, in questa guerra che è stata portata in Iraq proprio dagli Stati Uniti, c'è una situazione familiare che va al di là del morto, una famiglia che vive una situazione e delle ferite che non si rimangireranno per tutta la vita. Onestamente il Papa che ha accolto così bene Bush, onestamente è forse un qualcosa che va anche contro il credo della religione cattolica. Questo almeno è la mia opinione, volevo dirlo naturalmente, però i nostri ospiti stanno un po' quasi annuendo, perciò forse condividono quello che ho detto. Comunque andiamo nel vivo della trasmissione, io in questi giorni sono stato al nord e mi è capitato di vedere una televisione che praticamente si vede in tutta Italia, perciò non c'era bisogno che andassi al nord per vederla, però l'avrei potuto vedere anche a Roma. Però mi è capitata una televisione che ha come siete proprio a Padova, che è Canal Italia, e c'è stata una trasmissione proprio organizzata per parlare di una trasmissione dedicata a un libro, un libro che in questi giorni sta andando per la maggiore, tra parte le varie partecipazioni dell'autrice di questo libro, nelle varie trasmissioni, tra cui per esempio ricordiamone una, Lucignolo, che era dedicato per una puntata intera, mi sembra, è praticamente un libro che ha il settimo posto nelle classifiche, di vendita appunto dei prodotti editoriali. Praticamente una trasmissione dedicata mi ha incuriosito, mi ha anche in qualche modo colpito, entusiasmato, e ho pensato bene di organizzare, avevo già una puntata tra l'altro programmata per questa settimana, ho pensato bene di invitare e dedicare appunto una puntata, la radio di Ip, le nostre due ore, probabilmente in compagnia, con voi amici radioascoltatori, proprio a dedicarlo a questo libro. Io a questo punto vado a presentarlo, naturalmente il libro si chiama Porno Romantica, che è edito da Fazzi Editore, tra l'altro siamo riusciti a avere il piacere di avere l'autrice, perché tra l'altro è impegnatissima in una tournée di presentazione, proprio organizzata per un vero tour, come si fa con i tour, con i dischi, circa 30 presentazioni in giro per l'Italia, mi sembra, poi faccio dire di sì, e sto parlando di Carolina Cutolo, benvenuta a Radio Roma, ciao Carolina. Grazie, buonasera. Eccoci qua. Carolina poi tra l'altro è laureata in sociologia, e diciamo che praticamente si è impegnata molto, perciò sul campo del sociale, soprattutto in alcuni settori del sociale, è andata ad analizzarli, ed è nato fuori prima un blog, poi un libro, poi adesso ce ne parlerà lei. Poi dopo, naturalmente poi in quella puntata di Canale Italia, tra l'altro, era ospite, Carolina era in diretta da Roma, tra l'altro, allo studio di Roma di Canale Italia, era ospite invece a Padova, non so, perché peraltro romana, ma stava a Padova, insomma, adesso non so perché stessi a Padova, insomma, ecco, poi me lo spiegherà naturalmente lei, non in diretta, ma naturalmente perché magari poi non lo vuol dire, forse. E comunque stava, era a Padova, comunque Loretana Bontempi, benvenuta a Radio Roma, e tra l'altro che è stata ospite anche più volte qui in radio, e anche su un'ultima puntata, molto, molto, tra l'altro, significativa, e tra l'altro anche in cui sono venute fuori, sono emerse delle verità nascoste, effettivamente sul mistero di Mona Pozzi. E poi invece, l'aspettavamo nel corso della puntata, e diciamo che anticipato i tempi, tra l'altro è una persona a cui sono molto legato, una psicologa, scrittrice, molto brava, tra l'altro nonché una collega, tra l'altro che scrive anche sul portale di cui sono direttore, appunto, chitalimedia.it. Sto parlando di Irene Bozzi, benvenuta Irene. Grazie. Ecco, salutiamo tutti. Salutiamo tutti. Irene più volte, tra l'altro è stata ospite nei nostri studi, per parlare appunto di svariati argomenti. Quando ho bisogno dell'opinione dello psicologo, faccio l'opinionista da te. Faccio capo sempre a Irene, perché naturalmente dall'alto della sua professionalità e delle sue competenze, soprattutto professionali, riesce poi sempre a, come dire, ad analizzare quelli che sono gli argomenti che trattiamo appunto in radio. Io a questo punto mi fermerei però per un attimo, per un attimo mi fermerei per qualche attimo anzi, per ascoltare un brano musicale, un brano musicale che, praticamente, io ho fatto, noi come ben sapete, noi scegliamo sempre un artista, un cantante, un cantautore, che praticamente, poi usiamo come colonna sonora appunto di quella puntata, le canzoni appunto di questo artista. In questo caso io ho chiesto a Carolina, visto che era l'ospite su cui poi verteva appunto la puntata, la puntata stessa, e ho chiesto quale fosse l'artista musicale più che amava di più in Italia, e lei mi ha fatto tre o quattro casi, mi ha fatto quattro esempi, e praticamente, tra quelli c'era Pino Daniele, che tra l'altro è un po' che non scegliamo come artista per la nostra colonna sonora, per accompagnarci musicalmente appunto in quelle che sono, in quella che è la nostra puntata. e abbiamo scelto Pino Daniele da proprio, diciamo abbiamo scelto diverse canzoni, ma dal tutto e dal vivo, perché poi dal vivo le canzoni sono più belle, non so, vero? Eh beh sì. Irene poi ne sa qualcosa perché... Nella musica. Come no? È nata, veramente ha vissuto nella musica, perché è l'ex moglie, tra l'altro, di un famosissimo cantautore italiano, posso dirlo? Certo. Roberto Vecchioni, che salutiamo. e perciò, diciamo, a questo punto, diciamo, al più già dal vivo, è tutta un'altra cosa la musica, vero? Certo, sicuramente. E abbiamo scelto appunto queste canzoni, e Carolina ne ha scelte alcune in particolare. C'è una che ne ha scelta, adesso la dobbiamo ascoltare, che è una canzone benissima di Pino Daniele, che è Quando. Poi, perché ti piace tanto sta canzone Carolina? Perché è molto languida, per me, sulla mia pelle, perlomeno, mi dà una forte dolcezza, anche erotica a tratti. La senti sulla pelle? Bene. Allora, vediamo cosa succede alla pelle di Carolina durante questa esibizione, diciamo, questa esecuzione, soprattutto di Pino Daniele. Linea alla regia, per ascoltarci quanto, appunto, dall'album, e sono a mo', che è tutto dal vivo. Live! Ed eccoci nuovamente in studio, dopo questa bellissima canzone di Pino Daniele, anche la pubblicità, che non ho chiamato questa volta, però è arrivata da sola, si è attaccata direttamente, si è incuneata proprio nell'etere, e si è attaccata completamente alla canzone di Pino Daniele. Io sto vedendo la pelle di Carolina, voi non la potete vedere, che sensazione ti ha dato questa canzone? Qualche brivido, come sempre. Senti, ma dimmi una cosa invece, per quanto riguarda il tuo libro, ricordiamo appunto Pornoromantica di Carolina Cutolo, tra l'altro che hai proposto a tanti editori, però mi sembra che non tutti hanno risposto positivamente. e poi io… …